Buonasera, buonasera a tutti. Io sono molto dispiaciuto di non essere lì con voi perché occasioni come quelle di stasera sono tra le cose più belle che capitano quando si fa politica per una causa comune di così grande importanza come il futuro della nostra città. Noi stiamo vivendo insieme un momento molto importante di apertura e di ascolto della città nel percorso di costruzione di un piano per il futuro di Milano che stiamo portando avanti con Emanuele Fiano e con gli altri amici che sono lì in sala con voi. Un piano che vuol fare sì che Milano continui nella sua crescita e nel suo sviluppo partendo da quanto di buono ho fatto dalla giunta Pisapia sinora e cercando di sfruttare questo ottimo punto di partenza per poter entrare con forza e con solidità in un decennio di vero e proprio boom che non dobbiamo avere paura di immaginare possibile perché realmente è alla nostra portata. Per cui sono sì dispiaciuto di non essere presente ma sono altrettanto felice di poter dare il mio contributo da 14.000 km di distanza da Singapore dove ho passato diverse settimane negli ultimi mesi per lavoro e da dove posso guardare e analizzare quanto noi possiamo fare per Milano con occhio più distaccato e considerando quella che si definisce the big picture quindi la visione nel suo insieme. A volte io mi chiedo se sono troppo ottimista se questo immaginare il rinascimento dell'Italia in un momento come quello che stiamo vivendo che l'ho già immaginato tre anni fa sia un eccesso di positività politica e se forse dovrei stare più cauto. Però io sono un imprenditore questo è il mio dna e l'idea di rischio e di crisi io le associo soltanto ad opportunità anche quando le cose vanno al contrario come dovrebbero andare e sicuramente questo approfio ce l'ho anche per l'Italia e ce l'ho anche per Milano. Però per l'Italia il mio essere positivo deriva principalmente da quanto io vedo e assorbo e dai segnali che percepisco avendo la fortuna di girare in giro per il mondo. In Asia come in gran parte del mondo e del resto c'è un bisogno d'Italia, c'è un desiderio, un amore che ci viene trasmesso, una richiesta di quanto noi produciamo e viviamo che sono ben superiori a quanto possa anche lontanamente immaginare chi viva sedendo nell'istituzione, negli uffici italiani e non guardando approfonditamente altrove. Io non mi stancherò mai di ripeterlo perché è troppo grande la negatività che ci caratterizza come popolo, siamo troppo bravi a lamentarci, a criticare senza comprendere appieno, a mettere a frutto le nostre doti migliori, troppo forte l'autopercezione che la bellezza che ci è stata regalata sia coperta da ragnatele che è troppo difficile rimuovere. Ecco la comprensione di questo, c'è una diversa percezione di noi stessi, delle nostre doti e quindi una maggiore fiducia in quello che noi possiamo fare, deve essere il primo punto su cui basare una politica di sviluppo, valga essa per l'Italia e per Milano. E Milano è la porta d'ingresso dell'Italia, la sua capitale morale ed economica ma soprattutto è il centro di accoglienza del capitale umano di cui alcuni esempi sono in sala stasera. Noi dobbiamo avere l'ambizione di vedere Milano come la vera capitale europea del capitale umano, capire che dobbiamo poter essere sempre di più un centro di accoglienza e di eccellenza per le arti e per la cultura, per l'artigianalità, il design e la moda, le politiche sociali, i diritti civili, l'istruzione e la ricerca. Dobbiamo avere l'ambizione e la certezza di vederla così e di mettere in atto delle politiche che portino al perseguimento di questi obiettivi. Io l'altro giorno parlavo con un tassista di Singapore che è una città che un mese fa ha festeggiato i suoi primi 50 anni in cui si percepisce un orgoglio, un senso di appartenenza, di comunità e di civiltà in cui noi che l'Italia l'abbiamo fatta 150 anni fa ma che siamo italiani da 2500 anni, di cui noi manchiamo assolutamente nelle piccole come nelle grandi cose. Questa persona mi diceva in taxi, noi non avevamo niente, non abbiamo tuttora niente da produrre, ma a Singapore diamo il benvenuto ai talenti. We do welcome talents, lo sottolineava. Ecco Singapore è passato in 50 anni ad all'essere un posto che non produceva nulla, ad essere uno dei posti più ricchi al mondo, i primi posti per competitività, per facilità di fare impresa, per livello di istruzione di sanità, per tassi di occupazione e tutto questo puntando sull'attrazione dei talenti che nell'economia della conoscenza sono elementi indispensabili per generare innovazioni e ricchezze ed essere competitivi a livello internazionale. Certamente una tassazione molto bassa aiuta ma lo stesso discorso può essere fatto anche nei paesi del nord Europa dove le tasse sono alte tanto quanto in Italia. Qui aiuta principalmente il merito, la considerazione che le competenze sono riconosciute e premiate, che la legge è rispettate in quanto la giustizia è certa, che il lavoro di valore è tutelato non perché un contratto lo sostenga ma perché c'è la possibilità di pagarlo bene, valorizzarlo ancora meglio e di trovare un altro nel momento in cui questo venisse a mancare. Aiuta il fatto che ci sia un ambiente fortemente di valore dove si sa di poter trovare persone con cui condividere percorsi e possibilità di sviluppo. Singapore non è un paradiso, assolutamente, ma proprio perché nulla al mondo è guagliabile al paradiso che il caso e la fortuna ci hanno segnato nel nascere in Italia diamoci da fare per rendere un paradiso vivibile in tutti i suoi aspetti del livello quotidiano. Sono diverse e sono alla nostra portata se vogliamo le cose che possiamo fare anche a livello locale per rendere Milano ancora più attraente, in questo senso per i talenti di cui parliamo. La meritocrazia di cui tanti si riempiono la bocca ma per cui purtroppo l'Italia è ancora ultima in Europa occidentale deve essere una stella polare di chi governa Milano e questo vuol dire la valorizzazione dell'eccellenza al di là della provenienza, un'attenzione ancora maggiore alle pare opportunità, l'attenzione alla qualità del sistema educativo e la totale trasparenza in tutto il funzionamento della macchina pubblica e oltretutto trasparenza e strumenti di misurazione delle performance e dell'efficienza a cominciare dalla galassia di tutte le società partecipate. Io non sono contrario al controllo pubblico, al controllo pubblico privato se le società sono gestite però con efficienza e con risultati che lo dimostrino, ma da imprenditore, da appassionato di politica, da cittadino, sono assolutamente contrario e sono disgustato da quelli che sono gli sprechi, i poltronifici, i consigli di amministrazione utilizzati come ricompensa politica. Merito vuol dire chiedere conto dei risultati, del comportamento, del perseguimento degli stessi e della classe politica in primis e di conseguenza i cittadini in ogni loro funzione. Vuol dire molto semplicemente avere regole chiare, rispettarle farle rispettare. Sono tante e anche piccole le cose che possono essere fatte per creare un ecosistema in cui i talenti vogliono venire a vivere a competere. E alla creazione di questo ecosistema il comune può partecipare in maniera significativa non solo nell'ambito del merito ma anche con interventi sostanziali e strutturali sul proprio territorio che guardino a lungo periodo, come già è iniziato molto bene da questa amministrazione con esempi di successo che adesso non stiamo a ripetere e che tutti conosciamo. Gli interventi che migliorano le città, che la rendono più bella, più viva, attrattiva, più dinamica, sono un punto cruciale per attirare capitale umano. In questo senso, e per la Milano che noi immaginiamo, la nuova bellezza sarà quella delle periferie e le periferie dovranno essere il centro della città. Lo saranno intanto perché con la città metropolitana la visione complessiva della città cambierà, ma lo devono essere ancora di più per il recupero e la presenza fisica di luoghi dove realmente i talenti possano essere accolti e possono esprimersi. Accorti con la facilitazione di nuovi incubatori di imprese innovative, di nuovi spazi di co-working, di luoghi dove creativi, imprenditori, professionisti, possano incontrarsi e possano rendere realizzati i propri sogni di impresa partendo da zero. Ci sono realtà che si stanno diffondendo sempre di più. Questa sera abbiamo qui l'esempio di Fabric che abbiamo visitato con un grande interesse, che dimostra l'impatto positivo che realtà di questo tipo hanno sull'occupazione e sulla rivitalizzazione di interi quartieri, in questo caso Quartogiaro. E andando anche oltre gli incubatori di startup, io penso che Milano possa e debba avere l'ambizione di essere un luogo dove si possa creare un tessuto di nuove professioni artigiane che con la sfida della modernizzazione a tutti i costi sembravano essere sparite ma che sono nel DNA della nostra industria e della nostra terra e che dobbiamo con orgoglio far rinascere in città. Io penso che sia bello e ambizioso e giusto immaginare Milano come la capitale mondiale del design, dell'architettura e della moda, non intesa solo nelle sue parti industriali, glamour o globali, ma soprattutto nella sua dimensione di laboratori creativi, di artigianalità, di saper fare italiano che tutto il mondo, lo ripeto ancora e sempre di più, è disposto a comprare. Sapendo cavalcare per esempio fin da subito la nuova rivoluzione industriale dei makers, che sta portando un nuovo modo di fare industria e che è un treno che Milano non può e non deve perdere. Ma penso che allo stesso modo possano poi essere messe a sistema, incentivate, fatte incontrare tra loro anche le libere professioni manuali, quelle che caratterizzano l'Italia di un tempo che nel momento della crisi, del posto fisso che non c'è più, possono essere di nuovo scelte con orgoglio da giovani che decidano di seguire una propria passione farà diventare impresa. A tal proposito sarà fondamentale il modo in cui noi utilizzeremo anche il grande numero di beni confiscati alle mafie, su cui Libera ha fatto un lavoro straordinario del quale ci racconterà poi Davide Salluzzo che io ringrazio per essere venuto a portare la sua testimonianza. Deve però essere fondamentale in questo senso un approccio che sia focalizzato allo sviluppo, alla creazione di occupazione e di benessere diffuso. Quindi ben venga la precedenza l'utilizzo dei beni confiscati per attività di carattere sociale, ben venga l'utilizzo prioritario da parte di chi per primo combatte quotidianamente questi fenomeni, ma considerando che i beni a disposizione sono molto di più numericamente rispetto alle esigenze del terzo settore delle forze dell'ordine, mettiamo in atto un piano di reinserimento di cappannoni, fabbricati, terreni, uffici, appartamenti e box nel tessuto produttivo della città. Perché deve essere chiaro che la creazione di imprese e quindi di lavoro è il primo fattore ad impatto sociale positivo in una società moderna. Parlando di appartamenti confiscati si è detto per esempio che possono essere utilizzati per creare, essere messi in rete, creare un ossello diffuso a basso prezzo per l'accoglienza degli studenti universitari che vengono da qui, in cui da tutto il mondo. Benissimo, facciamolo subito. Ma facciamo in modo però che questi appartamenti, che in molti casi versano in cattive condizioni, vengano messi a posto da squadre di studenti d'architettura, di giovani geometri, giovani ingegneri, artisti, designer di interni, giovani artigiani giardinieri, idraulici ed elettricisti. Qui a Singapore per esempio c'è un gruppo di architetti, di designer che si chiama We Love World Cups. Prendono appartamenti vecchi, in cattive condizioni, li mettono a posto con poco, con bassi investimenti, li rendono piacevoli e poi li vengono le 10 volte tanto. Pensate però che bello se beni che sono di proprietà pubblica, con il carico simbolico di uno stato che si riprende ciò che è suo contro le mafie, venissero messi a disposizione per l'accoglienza dei talenti che vedono Milano come il loro punto di approdo, ma dopo essere stati rivitalizzati da altri talenti che a Milano vivono e studiano e che da qui vogliono cominciare il proprio percorso di crescita. Perché Milano deve essere il punto di partenza delle carriere di ognuno, deve essere un banco di prova della vita professionale di ognuno. Ecco nel caso dei beni confiscati, così come in quello degli spazi post-industriali di proprietà del comune, il tema è sempre lo stesso, a riappropriarsi di parti di città dismesso e dimenticate, reinserendole nel tessuto produttivo della città per favorire lo sviluppo, rendere Milano in tal modo la città leader europea degli anni venti di questo secolo, sfruttando tutte le potenzialità che oggi non sono sfruttate. Per farla noi abbiamo bisogno del talento di sempre più persone, della visione degli imprenditori, delle imprenditrici, dell'impegno di chi voglia venire qui a lavorare, ma soprattutto abbiamo bisogno di una politica che faccia da regista a questo progetto. Ciò che io ritengo bellissimo del ruolo della politica è il suo essere coordinamento, al centro dei processi avere la capacità decisionale per poter migliorare le sorti di una città e dei suoi abitanti. Ecco se voi siete lì in sala vuol dire che credete anche voi in questa potenzialità della politica e credete anche voi nelle persone che insieme ad Emanuele stanno costruendo questo percorso e per questo io vi ringrazio perché Milano può dare davvero tanto e merita davvero ancora tanto, per Milano quindi ancora di più. Grazie, grazie e buona serata. Grazie.